Grazie, Presidente, Ministro. 6 ottobre, 2 dicembre, 13 gennaio e oggi. Queste sono le date in cui lei è venuto in aula a riferire, Ministro, e ha esordito tutte e quattro le volte con la stessa frase. Siamo all'ultimo miglio. Ma quando è lungo questo ultimo miglio, Signor Ministro? Ci permetta, siamo preoccupati da questo esordio della sua relazione. Noi siamo ancora qua, esattamente come ci ha lasciati l'ultima volta. Siamo qui con le nostre convinzioni, siamo qui dai banchi dell'opposizione, siamo qui esattamente a chiederle le stesse cose che le abbiamo chiesto nel corso di questo ultimo anno, di poter far ripartire in sicurezza tutte quelle attività che sono state sacrificate enormemente fino a questo momento. Vede, siamo qui, direi, quasi noiosamente coerenti. Noiosamente coerenti e orgogliosi delle nostre idee che non abbiamo barattato o cambiato in cambio di qualche poltrona. Ci faccia riaprire in sicurezza, Signor Ministro. Faccia riaprire in sicurezza tutte quelle attività a cui avete dato prescrizioni, a cui avete chiesto impegni, a cui avete chiesto di investire e che vi hanno seguito, ma che voi poi avete improvvisamente abbandonato. E purtroppo è ancora qui anche lei, Signor Ministro. E lo dico senza nulla di personale nei suoi confronti, ma solo per il modo in cui rappresenta e gestisce questa situazione che noi non condividiamo. Perché vede, lei è ripartito esattamente allo stesso modo in cui aveva chiuso la gestione precedente, con un provvedimento scellerato nei confronti della montagna, che ha messo in ginocchio un intero settore. E quel provvedimento noi lo contestiamo pur consci della gravità del momento che viviamo, ma non ne condividiamo le modalità, Signor Ministro. Perché se si concordano per mesi protocolli, non è possibile far assumere a questa gente dipendenti, far sostenere costi di igienizzazione, di avviamento degli impianti e poi chiuderli solamente cinque ore prima. Ci viene il sospetto che la bussola di queste decisioni non siano tanto i famosi dati tecnico-scientifici di cui lei ci parla, ma quanto piuttosto convinzioni ideologiche nei confronti di alcune categorie che sembrano non avere nessun rispetto da parte vostra. Ha parlato in quell'occasione di immediati ristori. Ci sono due bugie in questa frase. Immediati e ristori. Immediati, perché ad oggi ancora non sappiamo nulla. Non sappiamo il quantum, non sappiamo quando e non sappiamo come. E c'è la parola ristori, una cortesia. Non usate più questa parola. Usate risarcimenti, perché per le azioni che state facendo nei confronti di queste categorie ci vogliono i risarcimenti. I ristori sono quelli che avete concesso ai detenuti facendoli uscire col decreto ristoro di agosto. Deputato Stumpo, prego.